Benvenuti nell'arena di fuori grotta, sempre e comunque, forza! È arrivato il momento di una premiazione speciale. Io risparso, premio i protagonisti della Serie A, AnyLive 2024-2025, i campioni che contribuiscono a rendere il nostro campionato uno dei più appassionanti del mondo. Io a sforzo, FG Player of the Month, del mese di settembre, e cominciamo con la scheda! Riccede il premio, il nostro numero 77! Cominciamo! Cominciamo!